In questa mia visita in Veneto stanno emergendo chiaramente due cose. Uno, che tutto il mondo dell'impresa chiede stabilità e governo. Tutto il contrario dell'instabilità che garantirà il centro-destra della Lega Nord. Secondo punto, molto chiaro, è un'grandissima voce dei cittadini, dei pediatri, nei confronti dell'obbligatorietà vaccinale. La Regione Veneto deve dire chiaramente, Zaya deve dire chiaramente, se sono a favore dei vaccini o se sono contro e se la Lega va al governo, che cosa fa sulla legge Lorenzin?